Nei varchi, come dicevi prima, c'è una campione. Sarà all'insegna della sicurezza e della tradizione la Fiera di San Nicola, una delle manifestazioni più grandi e antiche della costa adriatica che torna ad animare il lungomare pesarese dal 10 al 12 settembre dopo un anno di stop. In linea con le normative nazionali l'accesso sarà consentito solo con il Green Pass che sarà verificato con doppi controlli a campione nei 26 varchi d'accesso e all'interno nelle vie della fiera. Ovviamente chi abita nelle civili abitazioni e chi va al mare deve rispettare la legge dove lo richiama anche l'uso della mascherina. All'interno invece della fiera l'uso della mascherina e il Green Pass ovviamente sono obbligatori. Questo perché dobbiamo essere in sicurezza ma appunto tornare finalmente ad una vita, ridare vita alla vita, qualcuno diceva qualche giorno fa. E in un giorno in cui oggi grazie alla comunicazione nazionale e anche alla presidenza del Consiglio ha detto anche che si andrà verso il vaccino obbligatorio. La gestione dell'evento sarà carico di Pesaro Parcheggi. Gli espositori saranno più di 400 dislocati nelle vie e nelle piazze del lungomare. Spazio anche ai prodotti tipici regionali con 10 produttori e venditori in piazzale della Libertà. Inoltre verrà potenziato il servizio busnavetta gratuito dal parcheggio San Decenzio. Il mezzo passerà ogni 15 minuti dalle ore 16 alle 23. In occasione della fiera Viale Battisti resterà chiusa al traffico, potranno accedere solo i residenti. Cosa anche importante, abbiamo voluto mettere il giorno sabato dalla mattina alla sera ci sarà il camper vaccinale, quindi ci saranno persone che potranno fare il vaccino anche senza prenotazione e insieme al presidente Luca Pieri abbiamo pensato 24 ore prima dell'inizio della fiera di San Nicola nelle farmacie Aspes ci sarà un potenziamento di personale per poter fare il tampone. Quindi diamo la possibilità a tutti di poter entrare alla fiera. Fondamentale entrare con il Green Pass. Fondamentale Fondamentale Fondamentale